Nicola Milenkovic, sei tornato martedì dalla nazionale, come sono andati gli allenamenti in questi giorni? Sì, sono tornato in anticipo, oggi sono tornati anche altri compagni che stavano in nazionale, ci siamo completati oggi e ricominciamo a lavorare e a preparare quella partita di sabato che era più importante. Comunque dobbiamo preparare anche queste ultime dieci partite, questo finale di stagione a fare molto bene perché è molto importante, come detto, cominciare da partita sabato che stiamo già preparando. Sabato è una partita importantissima, cosa ti aspetti? Il Genova è una squadra difficile da affrontare? Sì, è una squadra difficile, sempre quando si gioca a Genova è difficile, è una squadra chiusa, però stiamo già preparando i miei compagni di nazionale che sono arrivati oggi, devono subito inserirsi in gruppo e vedere quello che chiede il mister per essere pronti sabato a fare una grande partita. Poco fa è tornato anche Dusan Vlaovic che ha condiviso la nazionale con te, che cosa vi siete detti quando è arrivato? Niente, è arrivato oggi, è carico, è pronto, quindi vuole fare una grande partita anche lui contro Genova a fare gol, quindi ci siamo tutti carichi e speriamo che facciamo una bella partita.